musica 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 cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft siamo sui nuovi party games su 7 di ai pixel ok cosa dobbiamo fare dobbiamo colpire batman si questo è un bellissimo se sento dei party games uccidili uccidili vieni qua vieni qua ponciami ponciami no non riesco a colpirlo batman ecco vieni insieme dei party games ci saranno un sacco di minigame uno dopo l'altro non li vedo neanche i batman non lo so eccolo eccolo l'avevo colpito almeno uno si ah qualcosa l'ho colpito si ho qualche punto puncia puncia maledetto batman ouch ha detto ouch un batman puncialo puncialo vieni qui batman guarda lì mi dispiace colpirli e come ti dispiace c'è il maledettissimo bat che da fastidi che versi che fa ma ma sono carissimo jackie di bonus bat c'è ouch ouch guardali qui nascosti lì sotto sono vieni qui per terra che ci fate dei cassetti dei gatti quattro secondi quattro secondi no tredici no dove sei batman ma quanti ne punciate voi ma c'è uno che ne ha punciate una marea ma io ce l'ho con batman quindi lo puncero tante volte lo stesso ahhhh sono arrivato terzo ma quando batman ha pepistrellito quanto di lui non prendiamo non facciamo un bagno nella lava peccato ti lascia la pelle morbidissima se ti lascia la pelle questo mini game mi ricorda quello di minecraft party sul tipico minecraft party fateci sapere attualmente adesso vedremo anche noi che mini game ci aspettano vediamo un po' se sono simili o spesso molto molto diversi vediamo quello di batman era originale però fateci sapere che cosa ne pensate quale sarà il vostro preferito mi sto facendo uno scopo no sono arrivato terzo è bello essere terzo stai spellinando cos'è sta cosa mi ricorda qualcosa prendi più terra possibile con la tua zappa ok questo non ho idea di che cosa sia va bene zappa buona zappa ah io sono nero io sono nero io sono nero no perché non funziona sto prendendo la lava la lana sto claimando più che posso vai vai claima tutto quello che posso sto claimando no sta chiudendo questo si con la rosa sta chiudendo chiudilo tutto non so cosa sto facendo non lo sta mi ha bloccato bifidissimus bifidissimus il blu io non ho idea di quello che sto facendo ve lo dico non ne ho oh non posso ma si eccomi qua ok ok ma no uno mi stava chiudendo e sta gente chiude perfida perfidissima vai claima più che puoi claima tutto dai che sei seconda bravissima non allora praticamente l'unica cosa che bisogna fare e cercare di rubare la terra agli altri per avere per costruire sulla propria ok io ho preso guarda poveraccio sto verde chiuso subito che cattile sei andata a seconda bravissima ecco complimenti a rosa che praticamente è riuscito a prendersi tutto il mondo è stata una carognissima infatti sto rosa mi sembra quello che vince sempre oggi comunque si starà allenando bene cosa eh cosa devo fare dobbiamo sopravvivere dalla neve stando sotto qui sotto gli ombrellini qui sotto può darsi può darsi vabbè sono stato finora nel podio sono contento sei bravissimo amore take over aaaah mamma mia perché sono palle di neve assassine non lo so non c'è più da qui sopra wow 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 una valanga no 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 perché c'è anche il ghiaccio per te è difficilissimo oh io vedo che sono in posto giusto perché c'è qualcuno che mi salta sulla testa va che roba che paura ok qui 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 no no attenta sai che tu qui non vedo niente non vedo nulla mio dio non vedo ah ok è finita si ok eccole qui uno eccole qui uno ma che assoluta anche questo nuovo carino 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 sono palle di nero o sono palle di piombo secondo voi questo che non lo so aia dove qui 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 a occhio no è più non sono sono poetissima un po storta non vado non aia non aia non capisco niente uuuu pochette si muove sta gente non conviene no dove dove no no come ho fatto che kick i magic stersto oh questo è vicino qua meno male aiuto aiuto dove sei perchè sono tutti appiccicati no 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 mi ho preso la parola di piombo in testa dove sono no muoio 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 sono morto addio la parte più difficile secondo me più che altro è perchè non capisci niente per colpa degli altri giocatori se fosse con gli altri giocatori trasparenti sarebbe meglio è lì è lì guardate è lì è lì è lì va bene va bene complimenti alla follia che state creando dobbiamo dobbiamo sparare al nostro colore per avere un turbo oh l'avevo sparato in altro colora spara dispare di più spara rosso non lo so magari non ti fa niente togli solo no dove è l'altro rosso è giù l'altro qualcuno mi diede rosso 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 dai più rosso più rosso non riesco a prendere gianlus no ma perchè non mi spara dove gli chiedo di sparare ma no è laggante è laggante lagga come può no ho preso il bianco ho preso ma no ok un rosso l'ho preso lagga gaga eh si è di gaga lei di lagga mamma mia sono in altro secondo ma perchè c'è un tipo che è un pochino forte cioè le vince praticamente tutte devo prendere più monete che possiamo ma come sono le monete va bene che monete quali monete ah ah sono queste uh salta salta chi non salta non è una moneta è un testificate le monete non saltano ok piglia testificate si però piglia ste monete guarda ce ne sono quelle rosse bellissime là sopra come si pigliano le rosse e che ne so come si pigliano le rosse si sta laggando come puole si sta laggando mamma mia quanto ok ma come non prendo le rosse vedo gente che ci arriva cioè è tipo quello più bravo di tutti che ormai sono settimane che passa le giornate qui a venarsi no vabbè può essere anche uno molto bravo di suo quindi complimenti al primo o molto fortunato o molto fortunato o o o con o è un amico dei capi di questo serve è un amico booster aspetta c'è ecco l'ho visto un booster booster piglialo wii no l'ho mancato peccato peccato in booster che amore ok sono primo ma vai ridendo scherzo eh lo so sono io oh 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 si è bloccato mi ho bloccato non l'avevo come racconta averlo sono andato primo eh sì sì io come stavo dicendo si può anche arrivare i primi sono grandi amico dei primi esatto no dei creatori del servo mentre uno può arrivare il primo ma come non sei amico dei primi ti vedo lì che trangugi vai 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 no no che sono sti tronchi no non venimi addosso no 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 chi è che mi è venuto addosso oh no 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 non è baro non mi si carica il mondo ero arrivato più lontano di tutti no non è vero sono il più indietro di tutti è il contrario no sono io il più indietro di tutti vabbè ora sei tu no no oh qua ok ok in questa in questa non andrò molto bene vai ok va bene in questa non mi importa in questa non sono stato bravissimo non hai brillato di luce tua devo ammetterlo ok cosa dobbiamo dobbiamo pig fishing non abbiamo fatto una roba del genere in passato come si era quello viola io ok piglia il maiale maiale piglia il maiale maiale prendi i maialus prendi i maialus dai piglia sti maiali vabbè dove andrà sto maiale dai maiale vieni qui dai cade nel mio canestro deve essere canestra dai mi stai sbagliando dai vanno via sti dai vai qui vai qui vai ma guarda dove salta Putin non andrà oh ma non ci credo vuole andare nel bianco piuttosto ma guarda quante ce ne sono ma sei bravissima ma che bravo è solo la tua impressione no è solo il contattare ti odio super bacon no sono caduto giù di sotto ma ce la fai a cadere qui dentro si grazie grazie cos'era super bacon ti ha tirato su come l'hai preso super bacon era uno di quelli piccini che ha scritto super bacon sopra ma si maialino 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 è mio quel maialus è mio quel maialus ma guarda lì che mi rubano i maiali dai ma dai mi sono bagato i maialus ma no vai giù vai tipo per te eh anch'io tipo per te eh grazie è tante è mio è mio questo smette di avercela con il mio è mio vai giù vai giù dai dai ma non ci posso ma perché non devono venire a me i maialus maialus si sono arrivata prima bravissima bravissima complimenti chi l'animus come chi l'animus uccidiamoli tutti uccidiamoli tutti c'è un posto dove non c'è gente più che altro perché deve essere dovevo essere io ok meno point 3 point un punto un punto 3 point 5 mucca no mucca mucca questo mi ricorda di nuovo qualcosa po' mucca no mucca 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 ma mucca anche maialus possono essere utili no quello meno point no maialus gallinus maialus mucus dove è la mucus mucus maialus mucus mucus si mucus sembra mucus sembra sembra oggetti da porzione di giammata ok non so che tu puoi sapere veramente cosa usa Gianmarca per le sue pozioni i tuoi trucchi usa sicuramente no i tuoi trucchi usa e purtroppo si quando venivano solo quelli scaduti non preoccuparti vai lì prendi i maiali maiali mucca mucca maiale maialus perché stiamo nominando tutti quelli che uccidiamo uccide e non pensarci mamma mia mamma mia dovrete almeno un nome prima di noi ammazzare tutti i maialus si chiamano che sono il primo bravissimo ma veramente ma che bravo è che carino sono secondo in classifica primo c'è il primo ma quello ah è finita è finito è finito sono arrivato a seconda bravo tu sei arrivata a quarta bravissima yeee wuhu gg a tutti gg complimenti a tutti yeee che carino veramente veramente molto carino e questi erano i party games su server dei pixel yeee sappiamo che presto ne aggiungeranno tanti altri non vediamo l'ora di provarli non sappiamo se in questa prima partita abbiamo provato già tutti i minigame presenti in questi party games o solo alcuni in ogni caso non essendoci state ripetizioni può darsi anche che li abbiamo provati tutti ma se vi è piaciuto fate sopra nei commenti lo rigiocheremo di nuovo potrebbe capitare che rigiochiamo i party games con dei minigame completamente nuovi perché questa è la prima fase dei party games e presto ne arriveranno anche delle altre grazie infinite per assistati con noi in questa nuova puntata facci sapere cosa ne pensate e se preferite questi i mix ed arcade su mineplex oppure il tipico minecraft party su mc brawl grazie a tutti per assistati con noi in questa puntata e alla prossima ciao 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 ciao